Governo e regioni stringono le maglie dei provvedimenti dopo l'evidenza scientifica che il coronavirus sta dilagando dalle zone rosse, scendendo lungo lo stivale imponendo disposizioni più rigide per evitare contatti interpersonali e sono proprio i luoghi di aggregazione ad essere colpiti dall'ordinanza nazionale e regionale in Campania emanata ieri 8 marzo dal governatore De Luca. Come si legge nell'ordinanza con decorrenza immediata fino al 3 di aprile sono sospese in tutta la campagna le attività di piscine, palestre e centri benessere. Ma mentre per piscine e palestre non sembrano esserci particolari problemi e dubbi nei centri benessere, i gestori si trovano in difficoltà perché ci sarebbe poca chiarezza sulle disposizioni in base alle licenze rilasciate. Alcuni restano aperti perché per definizione non appartengono alla categoria centro benessere pur svolgendo attività similari, altri restano chiusi per la poca chiarezza dell'ordinanza. La natura del provvedimento è quello di garantire una distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra, difficile da controllare in piscine, palestre, spa e centri benessere. E quindi al di là delle incognite sulle licenze sarebbe opportuno per senso civico e di responsabilità di ognuno di noi conformarsi all'ordinanza in ballo. C'è la salute di ognuno perché come più volte è sottolineato dai medici nessuno è immune dal coronavirus. Grazie. 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 Grazie.